Siamo felici di apprendere questa bella notizia che tutti noi e tutta la comunità gubina aspettava. Alessio domani farà rientro al proprio domicilio, sarà accompagnato naturalmente dalla famiglia che è stata sempre accanto al proprio figlio e rientrerà in quella che è una vita non più come prima ma che è una vita da vivere nuovamente. Le condizioni di Alessio sono delle condizioni che i medici hanno ritenuto adeguate per farlo rientrare a casa per vivere alcuni giorni presso la propria abitazione in attesa di ricominciare, di iniziare un nuovo percorso riabilitativo. Sicuramente il ritorno di Alessio non è il ritorno di un paziente completamente guarito, è il ritorno di un ragazzo psicologicamente molto provato, fisicamente molto forte, ha dimostrato a tutti noi di essere molto forti sia fisicamente che anche come temperamento. Sicuramente c'è un grande invito alla cautela per questo ritorno che comunque è un ritorno ad una vita che Alessio dovrà ricominciare a vivere in maniera diversa da prima e quindi c'è anche un richiamo al rispetto delle condizioni di un paziente che è in una situazione molto molto delicata.